La pace sia con voi. La pace sia con voi. Maestri, cari amici, come di consueto, l'argomento è conseguenziale e affascinante. Che cosa? Non permette l'incontro. La diffidenza. La maldicenza. La competizione. E cosa non permette? A uno sposo e una sposa. La fusione. Proprio queste radicate abitudini che muovono. Ognuno di voi. Come entità. A sé istante. E dimenticate per esse. Quell'attrazione. Quell'amore. che è stato causa dell'incontro. E ogni incontro, maestri, è un connubio. che sia con voi. Grazie. Grazie a tutti.